Tre corrieri di cocaina purissima sono stati intercettati presso lo scalo aeroportuale Leonardo da Vinci di Fiumicino dai finanzieri del comando provinciale di Roma e dalla servizio di vigilanza antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Ancora una volta grazie all'efficacia dei dispositivi apprestati agli arrivi internazionali dai militari del gruppo di Fiumicino è stata sventata l'immissione nel territorio nazionale di oltre 22 kg di polvere bianca che se fossero giunti nelle mani delle organizzazioni criminali avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. Due persone rispettivamente di nazionalità cipriota e ucraina e entrambe provenienti da San Paolo del Brasile si erano affidate ai classici doppi fondi ricavati nelle pareti dei bagagli al seguito. Il primo nascondeva oltre 15,5 kg di sostanza stupefacente mentre il secondo circa 2,5 kg. Non è andata meglio ad un'avvenente cittadina brasiliana proveniente da Fortaleza, anch'essa sorpresa con altri 4 kg di cocaina occultati nel doppio fondo del suo trolli che alle prime domande rivolte dai militari in merito ai motivi del suo arrivo ha risposto di essere giunta in Italia per motivi religiosi. I tre narcotrafficanti sono stati arrestati per traffico internazionale di stupefacenti e portati nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria. La lotta al narcotraffico del comando provinciale di Roma non si limita alle frontiere. Negli stessi giorni delle operazioni condotte a Fiumicino le fiamme gialle del nucleo Polizia Tributaria hanno assicurato alla giustizia due pericolosi latitanti colpiti da mandato di arresto europeo sin dal 2009. Si tratta di Slate Vladimir, più noto come l'olandese, di passaporto belga ma di origine croata e di suo fratello Boris, entrambi attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'operazione è frutto della collaborazione con il Centro di coordinamento alla lotta antidroga mediterraneo di Tolone nell'ambito delle iniziative assunte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in stretto contatto con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno.